Si chiama Fabrica de Armas, è dal suo ultimo CD che si chiama Santa Rebeldia e Santa Rebeldia è la santa dei ribelli e Fabrica de Armas è indicato con tanto amore alle fabbriche di armi che con tanto amore devolvono le loro produzioni nel mondo, così tutta la gente si spara, si uccide e questa è proprio un'opera di amore che lei ha scritto e soprattutto con questo piccolo ricordo a quello che è successo a Genova nel 2001, nel G8, dove amorevolmente si sono sparati e questo è Fabrica de Armas, un grande amore a coloro che ci sono amati. Grazie, 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 pistole, piccini, cari armati, bellissimi. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Voi da, voi da, vieni, vieni. Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti